salve a tutti amici dei transformers e di lego ed i supereroi in generale ed i supereroi di cinema specifico e di batman ancora più nello specifico da justduca di autorobo.it e benvenuti a una video recensione atipica nella gestione del mio canale dove appunto soprattutto colleziono transformers ma ogni tanto mi piace andare un po fuori tema ed ecco quindi che così preso un attimo da una fregola così passando in un negozio in ipermercato mi sono trovato davanti cosa questo batman mac armor della lego e appunto diciamo di mio forse avrete visto ho iniziato a collezionare qualche lego le astronavi di star wars che devo anche proseguire con qualche recensione e anche questi bei pupazzi costruibili appunto della lego già avevo iniziato anni fa quelli dei star wars stile bionicle e anche i bionicle ho collezionato per un periodo anche perché purtroppo come linea defunta ma appunto questi pupazzoni qui queste action figure costruibili sono davvero belle infatti devo continuare a prendere anche queste ma ho avuto un attimo diciamo un momento di leggera pazzia per carità molto leggera perché diciamo non è che queste mac armor mi attirassero tantissimo passando nei negozi giocattoli nei ipermercati buttando sempre un occhio ho visto che ci sono da anni da qualche annetto queste mac armor soprattutto di personaggi di supereroi della marvel ma diciamo come idea a livello di giocabilità sono appunto molto carini ma non è che mi avevano mai ispirato a parte che non ero proprio nel live dei supereroi della marvel quando passavo a vederli nei negozi i giocatori però ammetto che sono davvero carini appunto una variazione sul tema dei vari set dei dei supereroi marvel con le basi tutto con i veicoli eccetera ispirate i film soprattutto ma anche i fumetti dei appunto del marvel cinematic universe ovviamente queste mac armor dico novietà ma la dico sono ispirate giustamente a quanto visto in avengers cos'era avengers age of ultron ovvero appunto con iron man che aveva una ulteriore armatura che tramite cos'era aveva chiamato il satellite veronica gli lanciava ironica mi pare che si gli lanciava queste parti dell'armatura la hulk buster l'armatura hulk buster diciamo nei fumetti più nota come hulk buster ovvero l'armatura adatta ad affrontare hulk ovvero un'armatura ulteriore per il buon iron man che poi viene utilizzata in una fatalità proprio da bruce banner in avengers e infinity war e da qui appunto giustamente si sono ispirate e ci sono state appunto delle versioni così di questo di questo personaggio di questo hulk buster nei giocatori ma appunto diciamo probabilmente hanno ispirato questo 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 queste mac armor e che però diciamo nel loro giusto per essere proprio nerdoni nerd allo stato puro diciamo non sono tanto plausibili per i vari personaggi che abbiano queste armature magari qualche versione qualche storia alternativa dei fumetti ma una che potrebbe essere anche plausibile sarebbe per il buon batman diciamo quindi tra l'altro di mio sono non sono un gran fan di batman però sono un gran fan di supereroi dc in generale batman un po meno però batman ha comunque il suo fascino e ripeto trovarsi questa armatura per il buon batman fa sempre un certo che anche perché ripeto diciamo proprio ragionando da nerd è plausibile per il personaggio di batman prendersi un certo punto e mettersi a indossare una un esoscheletro un'armatura anche bella grande insomma anzi diciamo tecnicamente è successo proprio tecnicamente è successo proprio anche nei fumetti una versione di batman però non era batman bruce wayne era batman commissario gordon per dire qualche anno fa praticamente c'era questo batman che aveva un esoscheletro praticamente non questo qui diciamo però l'idea era quella qualche anno fa hanno fatto nei vari semi reboot delle serie che ogni tanto fanno cos'era poi non ricordo neanche più la saga vabbè ma comunque il concetto è questo che diciamo come una mac armor per batman è plausibile il personaggio quindi è carina da vedersi ma cosa sono queste mac armor semplicemente sono appunto degli esoscheletri per gli omini lego normali dei supereroi insomma standard quindi abbiamo il nostro batman qui tutto nero che anche fa davvero figo scusate la parlata da giovine ma fa davvero ganso figo il batman tutto nero con la faccia va beccalva di bruce wayne e anche con la doppia faccia girandola con il ghigno da batman arrabbiato comunque davvero carina mantellina insomma una figura batman standard diciamo come ce ne sono a iosa per i vari set di batman con un piccolo accessorio di batarang qui da fargli impugnare e ovviamente poi cosa praticamente un esoscheletro un'armatura di quelle che praticamente più che indossare pilotti in quanto appunto l'omino viene va a sederci si dentro nel torso mettiamo fuori il mantellino e di cui però esce solo la testa non c'è una sorta di calotta a fargli da casco come c'è la testa bella in vista diciamo ma soprattutto poi l'armatura stessa questa mecha armor è praticamente una versione meccanizzata del costume classico stesso del personaggio che viene indossato quindi tutti i vari diciamo stilisticamente probabilmente se un supereroe si fa l'armatura nei fumetti se proprio parlo di petrolio difficilmente si fa l'armatura uguale sputata al costume che indossa magari c'era quei colori ovviamente principali e riprodotti ma magari con qualche variazione di design di solito si usa così diciamo però qui in questo nell'ambito di questo giocattolo diciamo ha senso che l'armatura riproduca il più possibile le fattezze del costume di batman stesso ad esempio quindi abbiamo ad esempio la bat cintura proprio riprodotta diciamo e una sorta di mantello qui formato da delle ali e un razzo propulsori che serve mai appunto a modi armatura volante poi è tutto nero con tocchi di grigio comunque bel cromaticamente niente male molto carina diciamo ripeto avrebbe avrebbe senso che la nostra armatura avesse anche un casco invece che lasciare la faccia scoperta però diciamo le mac armor sono fatte così nell'ambito della giocabilità di questi personaggi come se fossero un'estensione del corpo stesso di questi uomini carine le dita snodate ognuna diversa qui abbiamo un lancia missili sparante però non vado a sparare con le scorte piccoli missili qui invece abbiamo da mettere sulla mano da agganciare una sorta di battaranghe gigante come accessorio come posabilità abbiamo però solo la rotazione del bacino e i ball joint come si usa dire su anche piedi caviglie insomma e spalle perché diciamo ho preso una mezza fregatura in questo senso perché in questo tipo di mac armor a differenza di quelle precedenti purtroppo non hanno la come si può vedere non hanno le articolazioni su gomiti e ginocchio perché sono praticamente un pezzo unico purtroppo peccato diciamo ho preso una fregatura perché così a vedere la confezione forse guardando anche le altre precedenti mac armor di altri supereroi pareva infatti hanno alcuni precedenti mac armor anche dei ninja quando ho fatto il mac armor dei ninja ma vabbè soprattutto quelli di qualche anno fa hanno appunto le articolazioni sui gomiti e da ginocchia mentre questo qui un pezzo hanno fatto un pezzo unico praticamente che simula il fatto che le gambe sono le braccia sono semi piegate e basta montagli non so se le hanno fatto apposta tanto per cambiare o perché magari appunto ma ricadono per via delle articolazioni molle del ginocchio non lo so dovrò eventualmente recuperare qualche modello se ho voglia diciamo però vabbè comunque un po limitata sul discorso dell'articolazione su ginocchia e gomiti però molto carina da vedersi più che altro e tra l'altro come pezzi poi sono parecchi perché sono tanti piccoli pezzettini 140 pezzi quando cos'era ad esempio questo qua di spider vabbè costava il costo ovviamente poi sono 15 euro 340 pezzettini non sono male da dove cosa qua ce n'erano 250 insomma ricordo neanche più però un po più grandi ovviamente per il personaggio base di dell'uomo ragno qui da 30 euro ci sta come rapporto prezzo numero personalmente però sono diventato un po scemo a cercare quando lo stavo costruendo perché con la scusa che erano tutti i pezzi neri facevo davvero difficoltà a riconoscere i pezzi la forma dei pezzi vabbè ma questo ma è perché sto invecchiando io vabbè scusate ma comunque davvero diciamo alla fine è figo il colore nero su batman ovviamente però poi nella costruzione tutti questi pezzettini piccini picciò come costruzione si da una parte magari per fortuna non sono i vecchi bionicle che avevano neanche una cinquantina di pezzi da assemblare molto spartani mentre qui ok che sono proprio costruiti con tanti pezzettini piccini ripeto però alla fine un po diventi anche scemo a cercare di costruirle quindi sì c'è il divertimento non dico della costruzione però magari diciamo anche troppi pezzettini forse però va bene ma almeno viene giustificato fatto c'è da un'altra parte è giusto che in quanto la costruzione di lego si spenda quei bei minuti a costruire insomma ovviamente e quindi davvero carino da avere come ripeto con action figure di batman atipica con la mac armor qui gli unici due pezzi grandi sono quelli della base del torso ovviamente per aprire carina proprio l'idea comunque queste mac armor chissà se magari recupero qualcun'altra di cui anzi la mia idea iniziale era quella di recuperare quelli di star wars perché per carità c'entrano ancora meno i mac armor nell'universo di star wars sono molto meno plausibili che non nell'universo dei fumetti i supereroi però erano davvero fighe come reinterpretazione di personaggi erano appunto talmente fuori contesto da risultare carini questi mac armor anche i personaggi star wars quindi magari anche lì sono magari li recupera anche quelli però quello di batman diciamo era quello appena uscito nuovo comunque in questo in questo periodo quindi è proprio una novità anche nei negozi quindi molto carino per 15 euro in generale appunto queste mac armor sono carine le consiglio comunque per 15 euro il prezzo li vale la costruzione eccetera anche che ripeto al livello ovviamente per i bambini sono molto fighe da giocare costruire eccetera ma anche come idea semplicemente da esporre sono molto carine ripeto quello di batman poi è plausibile ma anche tutte le altre diciamo il mac armor di supereroi hanno loro perché sono una variazione interessante per gli amanti di supereroi e magari anche più che non certi set con certi veicoli magari per forza sputati a quanto visto nel film ma queste sono appunto tipiche atipiche e con appunto 15 euro ti porti a casa una action figure ispirata al personaggio che preferisci speriamo che facciano altre ad esempio appunto dei supereroi di sì che sono quelli che preferisco personalmente ma questa è una cosa mia grazie quindi per visto questa mia video recensione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti cliccate mi piace condividete iscrivetevi al mio canale ma soprattutto andate vabbè soprattutto su una puntuita per recensione dei trasformer su un metto dei trasformers anche se non è questo l'ambito e comunque lo stesso su autorobot.it il gruppo dei fan dei trasformers in italia su facebook perché comunque sono già sul lucro dei trasformers ma ogni tanto ripeto mi piace anche mi piacciono i supereroi mi piace anche variare un po' a livello di collezione se no mi fossilizzo troppo ma grazie ancora tante buone cose del vostro jazz luca e ci vediamo la prossima video recensione ciao ciao